Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Se avete letto il titolo sarete appassionati come me di enciclopedie. Onestamente senza Wikipedia e senza altre enciclopedie che avevo da bambino, devo dire che la maggior parte del mondo che ho imparato a conoscere, ad amare e ad apprezzare, non lo avrei mai scoperto. E proprio per questo penso che sia molto interessante parlarvi dell'enciclopedia. Tra l'altro io stesso acquistai questa che è una riduzione della riduzione, ma è pur sempre un'enciclopedia diciamo legata al mondo arabo. Ve la faccio vedere adesso perché purtroppo non è attinente al 100% con quello di cui andrò a parlare, ma non perdiamo altro tempo. Intanto esiste il concetto di enciclopedia moderna all'interno del mondo islamico medievale? La risposta è no. Nel senso che l'enciclopedia moderna si basa su caratteri scientifici e quindi è essenzialmente una raccolta del sapere in ordine casuale, anzi in ordine alfabetico e deve tassativamente rimanere in ordine alfabetico. Non deve essere un ordine scelto da nessun tipo di persona. Questo poiché l'enciclopedia moderna nasce naturalmente con l'illuminismo, che è tutta una cultura che disprezzava di fatto la religione e quindi non ha senso parlare in quei termini. Va detto però che se noi consideriamo l'enciclopedia come una raccolta di sapere finalizzata a far comprendere a colui che sta leggendo dei concetti, allora naturalmente è tutto un altro discorso e si aprono diversi portoni. Sono quattro le tipologie di enciclopedia, ma mi soffermerò in particolare su due, che sono quelle citate da Bausani in questo libro e che sono sicuramente le più identificative, le più simili a quelle del mondo attuale, al mondo occidentale diciamo. Anche se vi parlerò anche di quelle due, in breve, perché c'è qualcosa di interessante, ma partiamo subito. Stavo dicendo, esistono due tipologie di enciclopedia, diciamo così. Una è una enciclopedia di carattere storico, geografico, etnografico, che quindi punta a far conoscere il mondo essenzialmente, a mostrare al lettore le bellezze del creato, in un certo senso. Quindi la sua storia, come mai, diciamo, ci sono stati certi re e via discorrendo. E l'ordine in questo caso lo decide di solito, appunto, lo scrittore, ma come vedremo dopo, perché vi leggerò qualche titolo dei capitoli sia di un'enciclopedia sia dell'altra, è tendenzialmente un ordine abbastanza casuale, o comunque, diciamo, non è un ordine che segue certe logiche. E' più, per dire, se ti sposti da Oriente a Occidente, allora fai tutti gli argomenti così. Però, ecco, è un ordine, diciamo, un po' più labile come concetto, ok? E' più l'interesse proprio del vedere il creato. E fra questi, naturalmente, non si può non citare Masoudi, che è colui del quale dopo vi leggerò anche qualche capitolo. Per quanto riguarda l'altra tipologia di enciclopedia, bisogna assolutamente citare i fratelli della purità. Questo sia perché il test è particolarmente identificativo, sia perché potete recuperarlo gratuitamente online, si trova, e anche perché, ovviamente, è quella citata da Bausani. Ma, piccola premessa, rapidissima, i fratelli della purità erano una sorta di confraternità massonica, diciamo, non massonica per carità, ma che aveva sviluppato alcuni di quei concetti, quindi una confraternità segreta, concerti rituali propri, cose di questo tipo. Quindi, naturalmente, è un esempio un po' particolare, però è quello che città Bausani e quindi noi quello prendiamo. In questo caso c'è un ordine preciso, gli argomenti non sono, ad esempio, non so, il re della Giordania, per fare un esempio, ma sono l'amore, la passione e cose di questo genere. Quindi argomenti molto più generici. Adesso, appunto, vi leggo un attimo i capitoli, così fate subito due idee. I capitoli li leggerò in maniera casuale. Partiamo da Masoudi. L'India, terre e mari, i sette climi, spostamenti dei mari, i grandi fiumi, il mar d'Abbessinia, cinesi e turchi e loro re, meraviglia dei mari e dei popoli e soggetti vari, i sassanidi, cioè i secondi persiani, i greci, il re greci dopo Alessandro, il re di Rum, il Sudan, l'Egitto, il Nilo e le sue meraviglie, gli slavi, i franchi e i galati, i lombardi, i re di Ad, i Tamud, il profeta Salih, lo Yemen, i re di Hira e via discorrendo. Non mi soffermerò ulteriormente. Bagusani ne cita un bel po' di capitoli, ma è inutile, avrete capito. Andiamo adesso invece a vedere i fratelli della purità. Materia, forma, moto, tempo, spazio, il cielo e il cosmo, generazione e corruzione, meteorologia, le miniere e i minerali, la natura, i vegetali, gli animali, la composizione del corpo, le sensazioni, il concepimento, l'uomo come microcosmo, lo svilupparsi delle anime parziali nei corpi umani naturali, i limiti delle conoscenze umane, la morte e la vita, i piaceri, la saggezza scosa nella vita e nella morte, causa delle diverse lingue, scritture e mezzi di espressione. Come avrete visto, in questo caso i soggetti argomentati sono molto diversi, sono molto più vari e sono soprattutto molto più filosofici naturalmente, anche perché questa, come vi dicevo, si rivolgeva a un certo pubblico particolare e, al contrario dell'altra che aveva più o meno un ordine abbastanza casuale, io poi l'ho letto casualmente, invece in questo caso ho letto i capitoli del secondo libro, in questo caso vi dicevo l'ordine è preciso poiché è un percorso iniziatico. Tu leggendo questa enciclopedia non solo svilupperai il tuo sapere, ma arriverai anche a una sorta di illuminazione, poiché sarai in grado, secondo loro, di rispondere a certe domande, come ad esempio perché sei nato in questo momento e cose di questo tipo, le classiche domande esistenzialistiche che però sono molto importanti ancora di più nel Medioevo. Vi dicevo che c'erano altre due tipologie di enciclopedia, andrò molto breve ma penso siano molto interessanti. La prima è l'enciclopedia della DAB. La DAB essenzialmente è una parola che ha duemila traduzioni diverse, però diciamo che queste enciclopedie contenevano al loro interno delle raccolte schematiche di poesie, aneddoti e ammonimenti vari. Diciamo che non sono identificabili da noi come enciclopedie, e neanche la lontana perché a leggerle così, a leggerle come Bausani ce le presenta, sono essenzialmente più delle antologie, delle antologie che legavano appunto il sapere del mondo arabo e degli altri mondi diciamo che si unirono in quello islamico, ma essenzialmente non sono delle enciclopedie, sono più appunto delle antologie, se così si può definire, anche se io ammetto non ho mai letta nessuna di queste, non ho mai trovata. Detto questo, l'ultima tipologia sono i dizionari biografici. Gli dizionari biografici in realtà sono particolarmente interessanti per noi perché vengono citati da HP Lovecraft. Molti di voi se lo saranno persi perché non ho fatto in formato video, ma circa novembre parlai dei legami di HP Lovecraft con il mondo arabo-islamico, tra l'altro con interessanti scoperte, addirittura, vabbè non ve lo dico, una non ci crederete neanche voi, ma andate a vedere quello. Detto questo, HP Lovecraft cita effettivamente il più importante dizionario biografico e questo importante dizionario biografico era di Ibn Khalikan, che era essenzialmente, aveva questo titolo, obituari degli uomini illustri. E HP Lovecraft inserì in questo obituario, anche se diciamo nella sua fantasia, nel testo vero non c'è, ma inserì Abdul Al-Hazraed, che è uno dei suoi personaggi più importanti, nonché lo scrittore del Necronomicon, il suo libro cardine, il suo libro simbolo. Detto questo, questa piccola parentesi, i dizionari biografici sono essenzialmente delle raccolte nelle quali si trovano le biografie dell'argomento scelto, quindi non so, possono essere i dizionari biografici appunto degli uomini illustri, come in questo caso, ma possono anche essere quelli degli avvocati, per dire, dei medici, cose di questo tipo. Quindi è un po' complicato definirle essenzialmente come enciclopedie, perché hanno alcuni aspetti che sono effettivamente tipici delle enciclopedie, ovvero il racconto biografico, ma naturalmente se tu lo fai molto preciso, può anche essere quasi una bellissima, non so come dire, un elenco telefonico molto bello. Ok, naturalmente è un telitterum senza il telefono, eccetera, però è essenzialmente un elenco di annunci. Se tu lo fai con malizia, e non so se lo facessero con malizia, però può essere, e quindi per motivi specifici non è esattamente un'enciclopedia come ce l'immaginiamo noi. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo mercoledì con dei pregiudizi, non mi ricordo il titolo, comunque è essenzialmente la storia dei pregiudizi anti-islamici nell'Europa. Io vi saluto, alla prossima!